Benvenuti al tavolo finale del Main Event, quarto evento, Isob Season 2023-2024. Presentatevi con nome e provenienza. Carlo Medda, anni 68, vengo da Roma. Nicola Orfellini, vengo da Massa Carrara. Cos'è di Paolo Laspezia? Buon visitato a Ljubljana. Alessandro Scermino, Modena. Luca Zanesi, Brescia. Marco Levato, Catanzaro. Andrea Bencic, Trieste. Chi sarà il vincitore? In bocca al lupo a tutti, EGL. Bottone Sette, Small Blind Otto, Big Blind Uno. Amici da casa, benvenuti. Siamo live per questo tavolo finale per il Main Event, Isob e iniziamo con i Blind 50.000, 100.000, B-Blainante 100.000. Gli otto finalisti che andrò a illustrarvi, elencarvi e citarvi, sono pronti a darsi battaglia. La prima mano è per il buon Carlo Medda, che dai Jack spilla un Asso e un Jack e aprirà, ovviamente. E le immagini mi fanno dedurre che c'è già un resto. Pronti via, tolgo e do c'è già un resto del bottone. Bottone che è Zanesi con Asso-Dama, qua vediamo un po'. Zanesi show a 940.000, quindi praticamente 10x con Asso-Dama e Medda adesso. Deve sbrigarsi questo problema, perché qua con lo stack che ha è un call che tecnicamente ci starà. Io sinceramente qua passerei, poi a carte vista è tutto più semplice, come diciamo sempre, però diamo il tempo a mezzo di pensarci. Guarda un po' il suo avversario, Carlo Medda, qua Luca Zanesi ha trovato praticamente il jolly. Prima mano del final è un jolly questo spot, bello bello. Trovata la mano più bella da giocarsi il colpo. E mi sa che Medda qua dovrebbe passare da come si sta muovendo. E infatti passa, bravo Carlo Medda che passa, Zanesi. Prende 435.000 chip che lo portano a 1.375.000, quasi 14 bui. Una bella boccata d'ossigeno, visto che era uno dei due più short di questo final table. Final table, è col count, amici da casa, elevato a 5.180.000, Medda 4.600.000, Coselli 3.930.000, scermino 3.850.000 bojovic 2.390.000 bencic 2.110.000 zanesi 1.375.000 o fellini fanalino di coda 890.000 pedine attendiamo un altro spot in attesa che arrivi anche qualcuno qua nella zona del commento perché la partenza è ovvia sono da solo solo soletto l'holly mi ha lasciato tutto l'holly come dicevamo ieri però qualcuno arriverà orfellini nel frattempo da più uno che è lo short stack del tavolo un k 10s qua vediamo cosa decide di fare anche se la posizione non è delle favorevoli posizione brutta infatti passa parola medda da più 2 non vediamo le sue carte ma decide nuovamente di aprire 160 almeno ma perfetto gli è stato comunicato come mettere le carte perché questo giro non si vedeva su 7 l'open di mezza cos'è lì passa dai jack zanesi passa i due parola levato da bottone scermino passa un capo 6 rimane il bb bencic bencic che ne parleremo durante le live momentaneamente è una scoperta è una scoperta che io questo ragazzo non l'ho mai visto giocare sono sincero e gli ho visto giocare degli spot veramente belli e impegnativi ha fatto due iroccolo oggi veramente strepitosi quindi questo questo ragazzo qua anche se momentaneamente sesso nel campo con 19 bb potrebbe regalarsene delle belle quindi nulla di fatto sull'open di medda rimane cipli del elevato medda sa vicina poi seguono cos'è gli scermino e a seguire gli altri 4 i blind sono 50.000 100.000 sarà una lunga serata barra nottata vi ricordiamo la struttura solita struttura comunque del main event isop che fa sì che il gioco sia il più bello possibile come struttura la struttura rende diciamo un gioco veramente eclatante non la struttura collassa non riesce tecnicamente a collassare quindi anche i più short che adesso all'apparenza non 9 x 10 x eccetera hanno la possibilità di rifarsi qua orfellini potrebbe già rifarsi alla terza mano del tavolo finale utg asso k 9 bui la posizione non è migliore ma la la ma starting and invece lo è me da 52 passerà ma che paolo coselli non passerà cosa lico a scuote la testa che anche questa comunque uno spot che come position non sono molto favorevoli per coselli potrebbe trovarsi una clientela brutta da dietro ci pensa un po su passa i 10 cos'è lì wow hai allevato a sudama qua passando cos'è lì e fatti gioca allevato da katov scermino passa jack 7 ben c 5 4 off da sb passa e passa pure bojovic qua qua vediamo se è una bella notizia per orfellini momentaneamente sì perché abbiamo un 71 29 elevato brutte notizie per lui ha trovato la mano peggiore assore una delle mani peggiori sono anche ovviamente le per sopra vediamo cosa casca 7 4 2 solo 3 out per levato abbiamo un tra il tar e un 9 arriver orfellini raddoppia grazie al fold dei dieci questi dieci foldati li hanno dato la possibilità di raddoppiare e hanno dato purtroppo brutte notizie elevato perché sul sicuramente sul collo dei dieci e qua levato sarebbe fatto gli affari suoi ma è da diventa chip leader in questo momento 4.850 elevato 4.290 cos'è lì scermino bojovic orfellini come vi dicevo prima da otto blinds e messe da nove blasi messi 20 blind già scalato in sesta posizione bencici e ora il fanami di coda diventa luca zanesi luca zanesi con un milione 375 comunque sono 13 bb allora i blinds sono 50 100 stavo ascoltando cosa dicevano i giocatori praticamente cos'è lei ha dichiarato di aver soldati 10 c'è stato un po di stupore al tavolo la 50 100 che dice il livello è appena praticamente è appena iniziato quindi voi gente al commento certamente allora ma è da prima parlare da utg jack 10 225 l'open di me da passano fino a levato con 5 3 e scermini 6 da cat off in position allora intanto ho risposto a un messaggio di nutarelli del dj quanto avrei dato per essere lì a commentare il king il king ovviamente alessandro scermino allora qua orfellini la bb a su sette passa quindi abbiamo e zapp tra medda e scermino medda e scermino sono stati già degli scontri oggi al final day vi racconterò qualche spot qua medda pesca un jack e un gaccio 5 per 3 5 6 8 5 check ancora medda scermino check back non si va a intrufolare in qualcosa di strano check ancora medda e scermino check dietro tutto c'è che questo spot medda gira la mano migliore coppia di jack e scermino perde due bui in questo spot comunque tra medda e scermino vi stavo dicendo oggi sono stati diversi spot interessanti tra cui uno in cui alessandro scermino ha floppato scala con un 4 un 5 su board 3 6 7 ma alla fine dei conti praticamente cascata una texture un po strana che ha scatto 19 e un 5 quindi con un 8 occasionale c'era una scala superiore e medda ha fatto un all in gigantesco arrivare in faccia scermino scermino ci ha pensato una vita ha passato scala quindi già oggi ci sono dati diverse sportellate i due giocatori quindi probabilmente ne vedremo delle altre anche stasera intanto c'è il cambio dealer cambio dealer nuova mano 50 centi blind prima a parlare sarà il buon paolo coselli da underdogan che passa 8 7 via zanesi elevato a un capo a 9 elevato che potrebbe anche aprirlo questo k9 per mettere un po di action dopo spot di prima invece passa decisione che condivido scermino i sei di nuovo cambia il dealer nuova mano ma rimangono i sei dai jack in position ci sarà ovviamente l'open ci sarà ovviamente l'open di scermino passa bencic passa bencic passa anche bojovic or fellini dama 5 ad sb sarà un fold ovviamente anche perché or fellini veramente iper disciplinato e anche medda che non ci fa vedere le carte e scermino si riprende diciamo quei due blind che aveva perso in precedenza contro lo stesso medda quindi risale praticamente lo stack di prima 3 milioni 825 mila per lui chiude sempre canzanesi con un milione tra 75 è è è è è è Grazie. Altro giro di fold, inizialmente fino a Schermino, che qua giac10 a picche da più 2 aprirà quasi certamente. Tutti fold, passa anche Coselli e Schermino, sale over 4.250.000 per lui, in più nello stack. Attenzione che qua potrebbe essere una fase in cui tutti tirano un po' i rimi in barca e uno come Schermino potrebbe sguazzare, anche elevato. Schermino e elevato potrebbero essere i due che aggrediscono un po' di più il tavolo e gli altri potrebbero un po' risentirne. Quindi sono curioso di vedere questa dinamica qua. Ok, intanto che il dealer sta mescolando e distribuendo la prossima mano, vi ricordo 18-22 aprile ci sarà lo stay 5 della tappe isope e dal 16 al 27 di maggio i campionati italiani. Cominciate a prenotare la vostra camera, cominciate a prenotare il vostro torneo per evitare waiting list e file che non volete fare. Perché ovviamente quando poi siete alla waiting list e volete fare il torneo, chi c'è è sottoscritto e gli dite, ma quanti ne mancano, quanti ne mancano, prenotatevi così non avete questo problema. Mi raccomando, passa Schermino, infreddolito quasi. Anche un po' spettinato diciamo, non è pettinato molto bene, quasi come me. Bencic 200.000 da più due aprile, Bojovic passa, Orfellini 5-4. Passa la sua volta, rimangono Bottone e Carlo Med e i 6, i 6 che stanno girando, questi due 6 qua. Ha tribettato Med, da 500.000, questa non me l'aspettavo. Questa non me l'aspettavo. E passa Bencic. Allora, io volevo copiare il link, ma non ci sto riuscendo. Vediamo un attimo che cominciamo a condividere, condividi, copia link, sì. Condividiamo la diretta intanto, che ovviamente abbiamo questi 15 minuti di delay che... Allora, io volevo copiare il link, ma non ci sto riuscendo a condividere, 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 condividere. Allora, io volevo copiare, condividere, 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 condividere Grazie. Allora, passa Bojovic, passa Orfellini e Medda, Assojack. Medda qua, tra una mano e l'altra, c'è sempre qualcosa da aprire. Allora. Allora, vediamo l'open. Allora, quanto ammonta? 265, bella lunghetta. Passa cos'è, Asso 5. Allora. Che se qua è una mano bella, diciamo, però fuori posizione su Medda potrebbe essere un po' fastidioso sto spot. Sicuramente questo sarà il pensiero di levato, però non penso che qua levato passi. Provo a... Dobbiamo anche provare a tribettare. Infatti sta preparando un importo, vediamo un po'. Rerate... Rerate... 825.000. Allora. 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 Abbiamo uno che non lo conoscete, ma qualcuno lo conosce. Cioè, io l'ho visto sempre in sta tappa. Mi piace perché allegro al tavolo, parlano. E come me. Lo gorroa e qui gioca bene a carte. Uguale a me. L'altro, ragazzi, visto il periodo, è il Super Saiyan di Isop. Cioè, praticamente, è il capo classifica. Perché sei l'unica persona al mondo che ha fatto prima tappa, primo, seconda tappa, primo. Poi questa hai detto, vabbè, sono al lavoro. Grande, grande. Perdoniamoli, non vengo. Perché se vincevi anche questa, se no... Allora, presentatevi, qua c'è il microfono, ragazzi. Buonasera, Federici, Federico. Federico Federici, che è quello bravo a carte logorroico. E poi abbiamo... Lorenzo Montanera. Che è il Super Saiyan di Isop. A me già vai, l'hai sentito. Qual è il secondo soprannome che avevi detto un'altra volta? No, ho detto sei il Super Saiyan. Grande Carlo Mello. Il mostro finale di Final Fantasy. Anche. Comunque noi siamo in pausa al Six Max. Ah, nella ludopatia. Un G-Left, entrambi. Ma potremmo di voi a prendere due G-Demons? È vero che voi siete su, potete andare... Esatto, esatto. Guarda, buon Natale, questa... No, ma... Prendete, prendete. Vabbè, comunque fate un'ordinazione qua, che dobbiamo... La diretta è lunga. Allora, vediamo questa mano. No, non, perché... No, non, non, non... No. No. grazie grazie adesso dai lui aspetta qua è giù dove vedi te valuta tu vabbè montanera intanto l'abbiamo truffato l'abbiamo chiamato qua l'abbiamo fatto fare il cameriere lo faccio tutti i giorni vabbè accompagna vi aspetto qua abbiamo fatto la forchetta montanera il capo classifica l'abbiamo inforchettato ci diamo qua allora praticamente gli abbiamo fatto fare l'ordinazione ci sta vinto due tappe che almeno ci porti da bere allora cos'è successo qua scusate è stato un momento di delirio generale allora aperto e levato a 200 bencici gioca flop e jack 3-4 con due cuori levato la sta combinando e bencici abbiamo gaccio per entrambi se casca 5 ragazzi è un dramma allora niente 5 per ora niente 5 tanto mando il link anche privatamente alla monica poggi che saluto se ci sta già seguendo aspetta se è giusto link giusto anche per lei mandiamo anche ai ragazzi di bologna prime battute bisogna streamare bisogna spammare everywhere questo non l'ho mandato Antonio link mandati in attesa che qua stanno a pensare il da farsi siamo andati a tutti check elevato attenzione check check quindi qua elevato con questo 7 di cuori passa in vantaggio però bencici qua potrebbe provare a strappare il piatto il piatto è già 850.000 quindi parliamo di 8 buie e mezzo sono di curioso di vedere cosa vuol fare bencici anche se qua ho paura che elevato potrebbe scerifare potrebbe scerifare anche se il 7 di cuori è veramente una delle carte più brutte del mazzo è una delle carte più brutte del mazzo quindi questo è uno spot arriverà hai fatto tu beh sei numero 1 no c'è uno spot tra bencici elevato in cui praticamente c'è stato l'open di elevato difende bencici assu 2 off da BB bencici oggi ha fatto degli spot veramente interessanti mi è stato riferito a un ragazzo di Trieste bui e 100 ha bettato 4 e 25 mezzo piatto allora il 7 di cuore è veramente una carta brutta arriverà chiude un pochino un pochino di robe però però non lo so questo ragazzo non gioca gioca molto bene anche elevato molto bene il Ciplider e anche stavolta dovrò Medda mi raccontavi prima abbiamo un trascorso un trascorso in comune parallelo oggi è stato uno spot dicevo prima tra lui e Scermino bencici no tra Medda e Scermino libra di inter Scermino flop a scala lo so io so cosa Carlo me l'hanno detto ma lo dico ma lo dico ma l'hanno detto perché non l'ha girata quindi non ci credo a te che t'hanno detto che ha bleffato anche a me io non ci credo neanche io non ci posso credo anche se Carlo lo penso a me me lo dica mi hanno detto che ha bleffato però con All ci siamo confrontati secondo lui dovrebbe aver top per flop che diventa poi una scala occasionale con un 8 quindi dovrebbe averti 8 e 7 ma il colpo che ha passato elevato è bravo Bencici qua comunque Bencici oggi ha fatto due spot bellissime a me il nome mi ricorda la tenista Belinda Bencici però infatti mi ha fatto perdere qualche palazzo qualche appartamento la piccola Belinda una delle tante una delle tante per fortuna ci allacca questo ci allacca quindi non è Bencici è Bencic adesso dopo magari chiedo a Calvin che lo conosce per me la pausa cena mi è arrivata proprio perfetta la pausa cena allora io dico sempre che è un dramma no per me è meglio appena perso preflop quindi eri già di 8 contro 7 e 4 off quindi eri già nel manicomio quindi la pausa cena si si ho cominciato io la pausa cena come dice Minasi che ne parlavamo due tappe fa per me è un dramma fisiologico e mentale si perché perché ti stacca dal mood del torneo e anche lui mi ha dato conferma di ciò che lui in pausa cena non va non va mai a buffare si mangia il giusto ho fatto Outerico Mosca hai fatto Outerico Mosca ho visto che è andato via 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 fratello ho detto sto qua e li porta il grande Simon ah fa tutto lui beh bellissimo un sogno non so se porta il resto però il resto non si ti ho detto resto mancia non so di chi era come resto mancia ah no no resto mancia potresti prendere 20 euro beh insomma potresti prendere una zannata alla trachea allora è tornato intanto qua il campione buonasera di nuovo il campione Bencic che ti ricorda Bencic che ti ricorda la Belinda Bencic ma finta di insapere dai lo sai non lo dici dai non fare la Belinda la tenista allora nel frattempo qua mentre parliamo di Belinda Bencic medda aperto a Sodama e Zanese è sciovato da IJHKQ i bui come sono i bui sono 50 cento ben 11 i bui Carlo mettiamo 6 fischi al centro Carlo sei davantissimo qua a carte viste dai Carli al centro dai Carli mi sa che non passa a Sodama tra l'altro ricordo un torneo organizzato da Carlo sì in occasione di quell'evento grande Carlo sì bella cosa Romano anche lui Carlo Medda che è stato uno dei primi che vedi su Pocheri Italia 24 veramente tra l'altro classico numero su Pocheri Italia 24 c'erano c'era un torneo mi sa San Marino mi sa di un brand e lui era il tavolo televisione il tavolo finale Carlo ti ho visto giocare con me i peggiori di assoluto forza Carlo fai gol e fai merda 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 quando c'è un telefono che squilla con una suonire abbastanza fastidiosa hai visto che è successo l'altra volta al Campadennis a un torneo col col medda all'84 Zanesi a rischio eliminazione al 16% sono ancora 8 per ora poi ovviamente dopo questa tua frase è lunghissima stasera è lunga io ho già avvisato a casa che doveva essere a casa alle 7 stamattina che ci si mette 8 8 asso 5 un po' 3D ma abbastanza chiaro qua l'orenzo va a fare 10 anni tu fai di tante 10 regolari o da madame da madame da madame da madame dur kk niente finito un applauso ragazzi in diretta è arrivato il barista più bravo della slovenia saluta anche al microfono i tuoi fans io ti faccio una pubblicità quando vengono i tari vieni qua al microfono ragazzi l'unico barista io faccio lo stesso lavoro che riesce a reagire due saluta pezzone due saluto a tutti giocatori isop e non e non tutto il mondo all over the world grazie è stato un piacerissimo allora bene ragazzi quindi abbiamo purtroppo la prima eliminazione perché comunque poteva succedere 5 ho letto cobolli cobolli sei un po' nel se hai letto cobolli sei messo un po' diokovic bencic cobolli 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 giocava con un amico mio a calcio nella roma giocava a calcio si era da un po' se al calcio che a tennis era tutto scegliere penso a te io ero forte a calcio ero forte poi mi sono messo a giocare a basket perché mia madre diceva non ti puoi allenare sotto la pioggia andate sulle six max io sono qua ragazzi quando volete grazie grazie se volete portare direttamente anche da bere non è un problema noi siamo aperti fino a tardi in bocca al lupo per i six max allora torniamo medda 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 allora medda da under the gun questo è un race che come diceva il buon luca franchi lo chiamiamo il race del festeggiato apre un 10 un 9 da otg cos'è lì passa levato passa a sua volta scermino 7-4 off va via bencic che ha già giocato uno spot molto interessante mi è piaciuto assai prima passa rimane bojovic da sb e orfellini dama 4 da bb passa a sua volta quindi nulla di fatto qua orfellini mi sono già esposto ma sarà un fold e medda qua sugli scudi sale a 6 milioni 885 un'infinità per carlo medda non be cómo non ho io l'ascizio non non Cos'è lì d'Under the Gun passa? Il buon Paolo Ho avuto il piacere di commentare anche nella Carpi Saluto gli amici del nuovo nero di Pic Chi ci starà seguendo Scermino passa Le carte di un suo amico Benci c'è 8 e 5 off Passerà a sua volta Voglio 18 e 4 Via Orfellini Via Adesso l'avevo detto che era una fase In cui i chip leader potrebbero approfittare I chip leader diciamo Il levato e il scermino dovrebbero essere Quelli che giocheranno un po' più allegri Allora andiamo a vedere un po' i commenti I commenti e anche le persone collegate Siamo quasi a 200 Nonostante io sia da solo Che mi hanno abbandonato i miei colleghi In questa tappa Vediamo un po' Un sacco di gente Allora La magia delle carte dice Forza Andrea E' arrivato anche il DJ Nutarelli Eccolo qua Sono qui solo per gustarmi le gesta del re dei grigi Il re dei grigi che abbiamo torturato con le nostre storie su Instagram E tutto il weekend Silvano Piloni Io so cosa aveva Medda sullo spot con Scermino Tra l'altro pod da circa 5 milioni si chiama Sì Me l'hanno messo Abbiamo già saputo Poi Sara Pertan Vai Andre Scrive Ario Alberto Zulini Dai Andrea Quindi c'è una tifoseria molto ampia Per direi Bencic Bencic dovrebbe essere Andrea Poi abbiamo Niceta Buonasera è possibile sapere il Bain e quanto paga la prima moneta Adesso vi diciamo tutto Sara Pertan Ciao Daniele Ciao Sara Rudy THC Vai Davor Caio Sara Caio Sara Rudy THC Saluta Sara Forse Sara Pertan Poi Notorious Foca Forza Andrea Bagliamo la stafresca Come fanno i cavalli Rega Molto bene Quindi Commenti per ora ce ne sono Siete in tanti adesso Che siamo over 150 Già a quest'ora E poi dovrebbero sempre più aumentare Allora Qui intanto c'è una BVB tra Medda e Coselli Medda completato Coselli ha ceccato Nulla per entrambi Però Medda Decide di mettere un po' di pressione Con questo Jack 5 Betta un buio Flop e 4 bui Tarn E bravo Carlo Carlo vuol fare in fretta Mi sa Carlo vuol fare in fretta Sale a 7.235 Che sono veramente un sacco di chip Momentaneamente sono più di 70 bui Levato 42 bui Scermino 38 Coselli 34 Bencic 20 23 scusate Bojovic 19 Orfellini 15 bui Mi sono trasformato nel BB Dei classici tornei online 50 centi blind Bibliante 100 Il primo a parlare sarà Alessandro Scermino con un 10 Un 5 Sarà un fold Allora ragazzi Se nell'area Il tuo commento Farà storia tra di noi Ma perché calmi? Vabbè adesso sta parte dei siparietti qua A parte se avete l'opportunità Vi auguro di no Bencic che è una scoperta E vabbè è un mio commento È una scoperta sì Guarda Calvin ti mando un vocale durante la live Sì Bencic è una scoperta So che avete le vostre chat In cui fate il tifo per Andrea Ma è una scoperta Io non lo conoscevo È un gran bel player Quindi saluta tutti i suoi tifosi Che si stanno facendo sentire anche sulla diretta di YouTube Ciao torno al commento Bojovic intanto con due assi Purtroppo per lui non ha trovato clientela Rammaricato In cassa poco e niente Peccato per lui Allora Quindi qua è un tamonito ragazzi Sbizzarritevi sulla live Scrivete commenti Domande Qualsiasi cosa voi vogliate Siamo qua per darvi risposte Intanto allora Per la payout Allora mi muovo anche sulla payout A payout vi posso dire che la prima moneta è di 28.000 La 28.000 più il ticket da 9.90 per il main event dei campionati italiani Una bella cotoletta Noi da noi diciamo così Una bella cotoletta Che a metà marzo In questo periodo in cui Sta per avvicinarsi la primavera Tanta tanta roba Tanto qua Nel frattempo c'è un giro di fold generale Fino a Orfellini Con un K1.4 dai Jack Passano tutti Fino a buon coselli Addirittura Coselli ha passato i due da bottone Ebbè sul buio di scermino Però mi sembra abbastanza standard Con questi stack Io qua non so se passo i due Anche se il buio di scermino è un buio abbastanza difficoltoso Anzi è meglio aggredirlo Con delle mani un po' più legittime Allora intanto ragazzi Vi comunico la payout 28 il primo 16 e 5 il secondo 10 il terzo Quarto 7.100 Il quinto 5.000 Sesto 4.000 Settimo 3.500 Ottavo 3.000 3.000 che sono stati vinti da Zanesi Uscito purtroppo per lui in ottava posizione Tutti questi premi sono Non sono compensivi scusate Oltre a questo premio diciamo monetario Ci sarà anche il ticket da 9.90 per i campionati italiani I campionati italiani il 9.90 Io la chiamo come dice il buon Gian Che mi fa il complimento La Ferrari dei main event Perché è uno dei tornei Comunque nel panorama pokeristico italiano I più belli in assoluto Ho sentito giocatori anche Di un certo calibro Comunque importanti Che hanno sempre fatto dei complimenti Perché è veramente Un main event con la M maiuscola Quindi già Diciamo classificato In fin dei conti Ho preso comunque un ITM di 4.000 Non poco Mad intanto dai jack Autentico mattatore Nelle battute iniziali di questo tavolo Apri a 220 Tutti i fold Mi stanno prendendo in giro Anche sulla cosa che ho detto Che Schermin era spettinato Inizio fa Beh è vero Era abbastanza spettinato Mai quanto mai In questi giorni In cui avete fatto Mi avete mandato Vi ringrazio anche amici da casa Che mi avete mandato in privato Degli screenshot Dei miei ciuffi Vari Spettinati Durante le interviste Durante i report Però ragazzi Purtroppo È stata la mia scelta Ho provato a farmi crescere i capelli Ma martedì mi arrendo Giuro È una roba ingestibile Non si può fare Nel frattempo Parliamo di cose serie Sette left Count a monitor Il più short Urfelline Con 15x Il più deep Medda Con 75 Attendiamo Una nuova mano Intanto qua Alex Youmerd Che direi Che hai un Veramente un nick Meraviglioso Scrive Dagebencic Che Aiutatemi se dico bene Che si dice Bencic O Bencic Ma penso proprio Bencic Nel frattempo Urfellini Attenzione Assodama picche Assodama picche Per Urfellini Passano tutti Fino al BB Che è Bojovic Attenzione Che qua Bojovic Potrebbe difendere Anche se Urfellini Ha fatto Una size Veramente Importante Intanto non sento In cuffia Quello che dicono Al tavolo Adesso voglio risolvere Questo problema Un attimo Mi sa che vi lascerò Un attimo Due minuti Devo sentire Un attimo In regia Se è un problema Mio da qua O è un problema Di là Size è abbastanza Grossa Quella di Urfellini Infatti Passa Bojovic Niente da fare Urfellini Vince in contesto Ed attendiamo Una nuova mano Ragazzi Ci sentiamo Al commento Tra pochi minuti Buonanotte Tempo Minuti Quattro Per una sigaretta Tessi minuti Ma Siamo Tutti Il tempo Il tempo Fermato Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. Allora, ok. ok. All in. comanda sempre, 6, 2, 1, e rimane, ha tributo. 2, 2, 2, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, nuova mano scelmino più 1 10 9 a quadri 10 9 a quadri per lui bencic 10 8 off passa vediamo gli altri passa poi avviciniamo a 4 orfellini un 8 in 2 attenzione a me da scatenato a sudama scatenato a sudama mezza mamma mia ennesima tribet qua no ha callato e basta ha fatto scuola davvero e gioca anche coselli è la mixata qua non avrei mai pensato che avesse facesse qualcuno a sudama qua no vabbè incredibile ma è incredibile mamma mia che spot non si può salvare qua scelmino solo se casca quadri si salva imparabile questo che si tribetta pre mamma mia che spot vediamo se la semmedda sta risando imparabile qua è imparabile questo spot qua questa è proprio una condanna per si almeno questa è una condanna non si può salvare qua a meno che faccia call e casca la quadri al turn non c'è via di scampo secondo me l'unica dinamica che lo può salvare quella che fa call e casca una quadri alta non c'è veramente perché quasi quanto ha dietro da 28 smette mezzo milione rimane con 23 vediamo attendiamo e mi sa colla attenzione qua scermino salva solo se casca una quadri 5 turn 5 turn che per al board all in call e draw in dead scermino draw in dead non c'è niente a fare questo è uno spot proprio che non si può salvare qua scermino non si può salvare ci abbandona in settima posizione non ci sono carte per lui 6 di picche river nulla da fare quindi scermino ci abbandona in settima posizione anche anche lui grande torneo questo spot comunque non ci si può salvare c'è poco da fare medda vola 11 milioni e due e rimaniamo in sei giocatori 11 milioni e due cento diecimila per merda più del doppio del secondo levato 5 milioni cosali 2 e 6 bencic 1 e 9 orfellini 1 e 7 bojovic 1 milione 6 40 e e e e e e nuova mano e bencic da utg k dama s passano se la passa anche orfellini mad 54 a bottone com a mad sta facendo veramente piazza pulita in tutti i sensi 5 e passa coselli e rimane elevato a bb e gioco elevato e zap tra bencice elevato a a k dama con la bb la per k dama bottom per levato spot interessante anche questo c'è a 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 flash over flash 8 e 2 quadri imparabile cbet a 2.10 700 medda gioca si pera il 5 quindi per quello 11 per quello ne tribetta perchè sa che scende vuole dai carletto campione vero talento in espresso merda attenzione qua perchè sulla cbet di bencic ha giocato elevato cascata la dama di quadri che apre un altro di quadri che è elevato lo sport non è il luano ha un problema con lo sport piatto 8 e mezzo 1.6 milioni lo stack di bencic c'è la 2 quadri che ha preso mh non è bello come race ah no ha cercato questa nuova eh check race è bella check race è bella ma benci non penso quasi no la carta di vista anche perchè se dava avanti 10 e mezzo tuffo 4.50 sull'open UTG esatto a carte scoperta è bello check race a carte scoperta è un tuffo perchè poi rischia invece ne manca i river mmm 2.25 piccola ah no quindi no un quarto piatto non fonda no sarebbe interessante un asso e un 9 di quadri arriva si ah vada con me ahahah quindi tutte e due al final si dati voi è insomma è mica se può fare sempre da solo si jtm anche si grande festa ancora è preso ancora abbiamo ma guardavo solo al primo posto io io sincero io ho visto quanto viava l'ultimo e quanto viava il primo ci sta in mezzo lui impegnato guarda solo il primo posto che ci vuoi fare gli altri non dai se vediamo stamani se la andiamo no mi sono mi sono non dato su un monfils si stavamo guardando oh dai voglio questa mano a me su oddio ma proprio così allora dopo pure noi è eeeh eeeh fratelli c'è pure il 4 preso c'è pure il 4 un signore ha perso un flip piano misdil dopo lo perde bruttino lo sai perché lo perde brutto puoi immaginare perché c'è stato in mezzo io con te se non aveva quota con me dopo lo perde brutto campadona 3-3 4-4 non lo so io chiamo il flore guarda come si vince il flip con 8-8 passo k tutto rischio perché ho 8-8 perdo 7-4 guardiamo il 3-4 il 3 luigi si chiama questo questo deve essere dei picchi a bologna si chiama il 3 luigi non vedo più niente 3 luigi check doveva essere in 2 non so perché ho detto dei picchi 1.4 milione di stack qui bussa dietro no dice che bussa dietro no però ma c'è una bot size come fa a dettaglio ma dai che sono 7-5 bussa dietro 98 volte tu l'hai visti voi bussa si si ragazzi in bocca al lupo ci vediamo dopo vi aspetto più di prima medda 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 ha portato bene sia a medda che a voi bravi a dopo ragazzi salutiamo Federice Montanera che sono andati giù a finire di giocare il 6 max nel frattempo cambiano i blinds 60-120 B-blainante 120 120 Grazie. Parla Bojovic da UTG 8 e 6 passa, Orfellini 5 e 3s, Parla Medda 7 e 4 via, Coselli nel rilassatissimo, elevato in BVB. Dama 2s. Attenzione a Benchic perché da BB con 2,2 dovrebbe difendere sicuramente, anche se ha fatto una bella size elevato, ha fatto una bella size, all in di Benchic, bravo Benchic, tanta roba, bravo sto Benchic, mi piace molto. Grazie. 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 nuova mano con medda sempre lui mattatore in azione dai jack jack 10 off decide di fare open di fare open vediamo un po tanto salutiamo tutti quelli che stanno seguendo la live siamo over 200 grazie a tutti quelli che sono collegati si collegheranno vediamo un po i commenti sì signor cappellino jack 10 va bojovic le metterà tutte finalmente per lui non ha visto una mano tutto il tavolo tanto c'è la curva per bench che si fa sentire compagni di merende di via della guardia allora milioni 5 20 non vorrei che qua medda abbia fretta di finire tre ma anche far colla sperando di trovare una coppia milioni 2 70 e folda medda sul show di bojovic che risale a 16 big blind un milione 950 per lui lascia l'ultima piazza e va in quinta posizione 6 left medda comanda con over 10 milioni o stacchi incredibili elevato 4 milioni benci 3 milioni 2 6 30 cos'è lì bojovic 1 950 17 30 per orfellini sono mi hai capito non ce l'hai capito passa a me dall'autg 72 e si muove cos'è lì sto giro che è un po che diciamo è in panchine non si è mosso elevato passaggio a quattro ben c 18 e 6 s da bottone passa rimangono i blind e rimane orfelline con 17 non vediamo le carte di coselli e pastor fellini cos'è lì dopo un po riesce a giudicarsi un piatto e risale un po nel count vediamo quanto arriva 2009 30 gli altri tutti a monitor in attesa di un po di action per ora sia adesso potrebbe essere una fase un po di stallo con medda che probabilmente aprirà spesso per mettere un po di pressione levato un po attendi un po attendista grazie Grazie a tutti. Due folder, tre folder. Quattro cose. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tre folder. Quattro folder. Tutti i fold per ora rimane il bommeda da SB12 off per lui. Vediamo se aggredisce. No, complete basta e troverà il check dietro di Coselli. Intanto Nutarelli ha commentato la mano dell'uscita di Cermino e dice no ma cos'è sta cosa PD solo così gliele prendono al King. E' stato uno spot abbastanza problematico quello. Non ci si può salvare. Attenzione attenzione che qua Medda ha flopato doppia su Dama a 10-2 e Coselli a top per. Potrebbe succedere uno scontro qua tra i due e Medda comunque in forma. Allora, Beta 200 Coselli. Medda sta preparando il raise. usando le chip di valore più piccolo ovviamente, cosa che i dealer vanno matti. Ne sta preparando un po', vediamo allora le fisce marroni sono quelle da 25.000 e qua mi sa che succede un frontale. Qua sta per succedere un frontale. Snap call di Coselli che non ci pensa un secondo. Andiamo a vedere se il turn cambia gli scenari. Per ora no. All in call, eccolo qua il frontale annunciato. Medda con 10-2 contro Coselli, Dama 8. Coselli a rischio eliminazione potrebbe essere il sesto classificato. Quindi per lui una Dama, un 8, un 6. La grafica ci aiuta a dire che gli out sono 5 perché sono stati foldati. Andiamo a vedere River, attenzione. E River è un 4 di quali che non cambia niente signori Medda on fire. Coselli esce in sesta posizione e Medda vola over 13 milioni, direi quasi 14 milioni circa. Mamma mia, autentico mattatore di questo final table. 13.950. Levato 4 milioni, Bencic 3 milioni, Bojovic 1.890. Orfellini, 1.430.000. révato、 Dimitri, 2.490.000. Solo grande buio. Siamo molto grandi. Allora nel frattempo c'è il cambio di healer Intanto si parla di una pausa, vediamo un attimo Attendo informazioni più dettagliate dalla regia Cinque minuti di pausa ragazzi Quindi adesso attendiamo la conferma della regia E ci vediamo tra cinque minuti Massimo dieci direi perché i giocatori hanno chiesto loro un break A tra poco Grazie a tutti 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 Tutti Grazie a 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 tutti 670 Grazie a tutti 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 Eccoci Grazie a tutti 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 2 milioni Grazie a tutti 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 Via Grazie a tutti 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 Sei fuori Grazie a tutti 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 Ci sta Bello Allora Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Benci Sono Grazie a tutti Io Grazie a tutti 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 No no Grazie a tutti 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 Tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Trazie a tutti Grazie 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 a tutti Fa sempre 4 milioni Grazie a tutti Cutshot Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti 2-1 Grazie a tutti 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 Non puoi Grazie a tutti Grazie a tutti Con 50 Quindi Grazie a tutti 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 tutti Grazie a 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 tutti Tornei Grazie a tutti 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 No Grazie a tutti 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 No Grazie a tutti 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 Check check Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti 380 apre medda con giacotto qua boi vi gioca ti posso dire in questa fase che sta piacendo più mezza che certo mi sta piacendo molto di più forse è accusato tanto quel quadri sembra anche abbastanza stancho quello è un quadri che ti manda il ma... oddio olin ha fatto così ogni tanto io e via stava ragazzi qui io non so se confunda poi perché questo olin ragazzi di quanto è? ha fatto una fracca ma perché? mi fa un favore se dovesse vincere il medda ti chiedi perché queste size a volte? ah glielo chiederò te lo giù per glielo chiede voglio tipo credo su un fanteroto sono cinque sete o perché sull'imp ha fatto un ino diretto questo ks voglio sapere perché magari sbaglio io non so magari sbagliamo noi infatti io sto qui seduto tu stasera magari sbaglia il dj che mi scrive che dice dj sbagli tutto tu? no pensate proprio non c'è un thinking process qualcosa che ti porta a fastiolino? non c'è thinking process sentimenti sensazioni thinking process qua non ce ne sono cioè non voglio essere cattivo a giudicare però thinking process qua non ce ne sono qua è un disco di sensazioni faccio il link secondo me è come di ti è? metti io? vuoi metti ti è? vuoi sette e quattro ciao c'era un mio amico napoletano diceva parachist buffo in romano si può dimettere una pezza? si uguale comunque io comincio a non vedere più eh 9 e 4 asse completa medda isola 4 e 60 gioco già questa mano l'imp collare mi piace esatto questa condivido anch'io non sappiamo le carte di medda lo scopriremo probabilmente carlo fai vedere queste carte se cascano tipo due cuori ho capito che vorrei mettere alla tua sinistra ecco vila contro contro bollino d'arte all in così all in così biladrarlo dai un po' ammette dai all in fatto l'ha fatto l'ha fatto l'ha fatto l'ha fatto dai che voglio mettere e poi le mette come poi diciamo ma sai che mi stacca no era una cosa? no era... fold fold asino io voglio sapere carte di medda anche qua adesso abbiamo adottato la limp shove strategy praticamente è tipo uno spin and go uno spin and go no abbiamo adottato questa politica qua 하면서 forse sbaglio io intanto è tornata da 2 a 1 per carlo però non l'ha fatto prima prima come dicevi tu doveva fare lì in tutte le mani perché tanto avevano 2 milioni, 2 milioni, 2 milioni e aveva 16 e farò lì in tutte le mani e metterli in difficoltà cioè lì non l'ha fatto boh questi all in un po' me lascia senza parole no perché l'ho vista anche di peggio allora cambio di vario c'era la pausa tra quanto c'è? probabilmente tra poco 80-160 sì, cosa hanno fatto? 50-60 80-80, sì direi che ci siamo ormai forse uno o due mani, non di più adesso vediamo che non c'è mai un link all qua c'hanno troppi bui eh, troppi come ho detto prima, se c'erano giocare le zap, stevanato e boh adesso preso stevano non è lì, 7-2, 8 7-2 contro un jack, un 6 jack 7-2 tipo casca secondo me non ne prende nessuno una anche secondo me proprio tipo asso no, beh, un jack jack no, o lì no, no, check però si casca tipo 7 eh, vabbè scusate basta, chiamare le carte in realtà non le sappiamo le carte prima no, non le sappiamo prima però siamo talmente in sfiga in rogna sappiamo talmente tanto di questo gioco che mua river guarda che succede un 2 no, questa non la 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 no, 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 dai no, un 2 check, check check vabbè, voglio prendere qualcosina io un periodo che ogni tanto tipo me le sento tipo che casca quella pausa? si ragazzi, pausa andiamo a prenderci un tè caldo come dice la caressa boh andiamo a prendere qualcosa ci vediamo tra poco tra decini di minuti penso ciao Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. e a tutti. 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 3. a tutti. 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 vi aspettiamo.